La rivoluzione del lunedì lascia ovviamente pesanti strasci che in casa San Giovannese l'uscita di scena del capitano Rossetti e di regolanti obbliga Rigucci a far esordire Kelly promosso dalle Juniors come centrale accanto a Farini e Canessa in gol a Poggi Bonzi come vertice offensivo. Torna tra i pali di imperanza, Baldesi va a fare l'esterno basso a destra, la gradinata ha preso posizione auspicando un cambio ai vertici societari ma non fa mancare l'appoggio alla squadra. C'è però da dire che il concetto di acquirente e l'aggettivo affidabile difficilmente vanno d'accordo in queste categorie come dimostra la cronaca sportiva nazionale degli anni recenti. Prime proteste per i padroni di casa quando Bartolozzi è abbattuto al limite dall'uscita di Fiorenza, tutto fermo però per il fuorigioco iniziale del numero 11. Prima del ventesimo Canessa saggia ai riflessi dell'estremo ospite con un destro però troppo centrale per impensierirlo. In cronaca ci sono solo i padroni di casa, la nota successiva è la prima intenzione firmata da Sacchini, sfera di non molto al lato della porta Umbra. Ventisettesimo e stavolta il bersaglio è centrato dalla girata di Canessa ispirato da Bartolozzi. A mano aperta respinge Fiorenza, nessuno è pronto a ribadire. Sempre Fiorenza è protagonista quando esce con eccellente tempismo a chiudere l'incursione di Bartolozzi da sinistra. Il marzocco meriterebbe il vantaggio che non arriva, la tensione resta alta tanto che nel recupero per proteste su un mancato fallo evidente di Omurria, a palla lontana, a danni di Bartolozzi, dalla panchina è allontanato mister Rigucci. La ripresa si apre con la punizione che Benucci da destra indirizza verso la porta, la traiettoria ha solo troppi giri oltre lo specchio. Angolo di Sacchini alla mezz'ora, Svetta Farini sulla linea però ancora Fiorenza risponde presente. Il Trestina entra nel taccuino con Dinolfo da poco entrato, botta da fuori, bloccata da Timperanza. Decisamente più impegnativo il compito del portiere un minuto dopo sulla girata di Tascini. Anche stavolta però è chiusa la sarracinesca. Il bomber bianconero poi si divora al 43esimo il vantaggio impattando in malo modo sottoporta, quindi finisce 0-0. 14 punti è il bilancio deficitario del gittorone di andata della San Giovannese. Nelle prossime ore nel ritorno servono cambi di marcia importanti per rimanere in categoria.